Mi fermate, mi fermate Le pressioni, esercizio di pressioni proprio a solucionare la donna Facciamo che io non mi fermo io Forse Enrico, a ritmo dovete andare, dovete seguire il mister Dai, mettiamoci sui gradini, pizza Dai, come stavamo prima, dai Dai, mano, dai, dai, mano Guardate quello che ho fatto il sacco Cosa ho fatto? Daniel e... Se no a voi... Se no a voi... Mi piede la terra da voi, non ce la fai a rimanere Ce la fai? Ma fino Rimani in piedi fuori da terra Non ti spiega la lega Dai! Come prima, come prima, come prima Vai di fresco Mammarella Maramieri Edidonato A quest'altro lato Alessandro Ramunti Enrico Caporale Nicolò Dancero Gabriele e Gian Cristoforo All'altro lato c'è Pellegrina Emanuele E Tenaglia Tenaglia Nicola E mister Giovanni che continua al centro Sul ponte di comando Vai! 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 1